La comunità di Monte San Giacomo ha festeggiato un'altra centenaria, concetta di concilio, l'ottava che il paese può vantare negli ultimi anni. Una vita lunga un secolo, la sua nasce a Prignano Cilento l'8 dicembre del 1918. Nel 1943 sposa il san giacomese Biaggio e si trasferisce a Monte San Giacomo, dove si è perfettamente integrata e vive ancora oggi amata da tutti. È una nonna serena, come la si vede nel giorno della sua festa, circondata dall'affetto della famiglia e degli amici. È madre di tre figli, Francesco, Giuseppe e Giacomina, che le hanno regalato cinque nipoti e otto bisnipoti. Ha condotto una vita semplice, dedicata ad accudire la famiglia e il duro lavoro dei campi. Si porta dietro un patrimonio di sacrifici, la nonnina dal temperamento forte, schietto e spassoso, come quello di una bambina. Se tutta questa agenda le può per lei, sei contento? È chiamata, sono venuta, le ringrazio. Da quanti anni fa a Monte San Giacomo? Ma non mi ricordo. Si sei sposata a Prignano, dove ti sei sposata? Prignano, a Prignano. E poi sei venuta qua a San Giacomo? La sera, la sera a notte, non c'erano mezz'età, con il treno. Mi sembrava strano, pareva brutto, ma per chi si è abituato? Se vedevi prima, ci venivi qua? No, no, non ci venivi. Vestavi a Prignano? E' stato da tanti anni, mi sembra che a casa sono nata. Che lavoro? Eh, dalla montagna, a Zappà. A Zappà, mettiamo il grano, mettiamo il patano, mettiamo di gradermi. E c'è una vita di sacrifici? Nonna Concetta sabato ha festeggiato compleanno e onomastico. Prima la funzione religiosa presso la Chiesa Madre San Giacomo Apostolo, celebrata da Don Agnello Forte. Una ricchezza l'ha definita il parroco, rappresentando lei oggi la memoria storica di tutta la comunità. Resta però innanzitutto una mamma e una nonna premurosa. E allora la famiglia e gli amici si sono riuniti per il pranzo presso il ristorante Rezzo, dove l'hanno festeggiata e coccolata tra le cornie e i fuochi d'artificio. Per tutta la giornata Concetta non si è separata dalla sorella, 97enne, con cui ha condiviso affetto e sorprese. L'invidiabile traguardo raggiunto meritava un momento istituzionale. Il sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta, il consigliere comunale di Pregnano Cilento, nonché nipote della festeggiata, Giuseppe Vecchio, hanno omaggiato nonna Concetta con una targa ricordo, formulando le migliori auguri a nome delle rispettive amministrazioni. Oggi l'ennesimo centenario che festeggiamo, auguriamo a lei naturalmente lunga vita. La signora Concetta è nata a Pregnano, quindi due paesi che tra l'altro, a causa di quello che è avvenuto nel passato con la cosiddetta transumanza, hanno avuto già rapporti tra di loro. Tanti pastori si spostavano nel Cilento, nel periodo invernale, quindi si consolidavano anche dei rapporti a volte di famiglia. E questo è uno di quei casi che ha portato poi la signora Concetta, nonostante abbia detto che se sapeva che il paese era così non sarebbe venuta, però poi ha detto che migliaia. Effettivamente, nel 1943, quando è arrivato, immagino che il paese sicuramente era diverso, molto diverso da come è oggi, però ecco il fatto che poi c'è rimasto, il fatto che ha messo famiglia qua, insomma vuol dire che si è trovata bene, e il fatto che è arrivata pure a cento anni. Oltre a essere consigliere sono nipote, sono il nipote della sorella praticamente. È un traguardo importantissimo, nel nostro comune è il terzo evento che si è verificato. Noi siamo stati contentissimi e l'amministrazione, il sindaco ha deciso di inviare un dono alla nonna Concetta.